Fino al 7 di maggio la città di Cairate e l'intera provincia di Varese sono al centro del mondo legato al trasporto pesante su gomma per l'organizzazione dell'Assemblea Generale dell'UICR, acronimo che traduce International Union of Professional Drivers che a 10 anni dalla sua ultima assemblea nella città di Torino è tornato a riunirsi in Italia grazie all'associazione territoriale Noi Camionisti che per l'occasione celebra anche il 35esimo anniversario di Fondazione Presenti all'evento anche due vicepresidenti UICR dalla Finlandia Anna Anpaa e dalla Polonia Barbara Zimmer che è anche direttore della rivista Tracker UICR è il contenitore intercontinentale che raggruppa le associazioni dei camionisti di ben 32 paesi per un totale di circa 1.600.000 iscritti l'organismo coordina e rappresenta gli autisti professionisti promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza stradale e della formazione professionale e ogni due anni si occupa di organizzare i campionati mondiali di guida sicura per autisti professionisti il nostro Andrea Pisani ha intervistato il presidente dell'associazione Noi Camionisti Vincenzo Iuzzolino e il consigliere regionale Emanuele Monti Eccoci, anche oggi è stata una giornata impegnativa una giornata piena di iniziative, di discussioni in questa assemblea generale che è stata fatta qui in Italia pertanto siamo orgogliosi di aver portato questa assemblea generale degli stati membri della UICR in Italia dove abbiamo discusso sulle direttive, sulla normativa della sicurezza stradale e sulla figura dell'autista professionista la discussione è ampia ogni paese ha portato le sue motivazioni le sue situazioni e questo confronto veramente ne ha valsi la pena per confrontarsi tutto ciò è per portare alla Commissione Europea o ai nostri membri del Parlamento questa situazione che il nostro mondo vive cioè la figura dell'autista vorrei ringraziare moltissimo l'amministrazione comunale di Cairate che ci ha supportato in questa organizzazione dell'evento e veramente ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita di questo evento internazionale UICR Cairate 2023 Un piacere portare i saluti di Regione Lombardia ai 35 anni dell'Associazione Noi Camionisti all'incontro internazionale dell'Associazione degli Autotrasportatori che oggi si trovano qui in provincia di Varese in Regione Lombardia per confrontarsi e discutere sulle tante problematiche e tanti progetti che riguardano il trasporto nazionale e internazionale siamo a lavoro come Regione Lombardia su questo ambito sarà oltre un miliardo di Euro di investimenti quelli stanziati a Regione Lombardia nei prossimi 5 anni sul fronte delle strade lombarde questo per aiutare gli enti locali, le province, i comuni a dare un servizio migliore anche per quella che è la Regione Motore d'Italia ma anche uno dei quattro motori d'Europa pertanto il trasporto è un elemento fondamentale e su questo noi siamo in campo poterlo fare insieme alle associazioni che rappresentano i lavoratori ascoltando i bisogni e le necessità per noi è un elemento fondamentale con la Giunta regionale, il Presidente Fontana siamo qui in ascolto, in dialogo per lavorare ancora meglio insieme